Bene, oggi voglio rendervi partecipi di una gran bella toscata fatta in uno dei miei soliti spot qui a Torino e vi mostrerò quello che ho fatturato con la tecnica del legion. Bellissimo pigo, molto bello, guardate i colori, fantastico. Bellissimo pigo torinese, merita davvero, bello, bel pesce, che c'è bellissimo. Bello strano. Un bel barbo strano. Anche questo bel pesce. Altre due. Barbo strano. Mi fa tempo incannato dal suo pesce. Incredibile quello che sta succedendo stasera. Sette, otto pesci sono già arrivati a Guadino e adesso abbiamo a che fare con un altro pesce. Grazie. 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 Ad PAL. Grazie賞. Grazie. Grazie. 과�orica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora barbie, sempre mestraneo. Questo è l'ultimo, bel pesce, bel pesce. Grazie. 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 Ciao.